...informazione tecnica prima di cominciare, chi non l'avesse ancora fatto può servirsi dei ricetrasmettitori che ci sono all'ingresso della sala e che vi permetterebbero di ascoltare la sessione anche in più lingue. Per chi è collegato invece online, attraverso Zoom, ricordo che c'è il servizio di interpretariato attivo sulla piattaforma, è riconoscibile attraverso un'icona del mondo con la scritta interpretazione e lì possono essere scelti i canali tedesco e francese per poter ascoltare la sessione in tedesco e in francese oltre che in italiano ovviamente. Sempre per chi è collegato online pregherei di tenere silenziati i microfoni e possibilmente aperte le telecamere così siamo diciamo quasi alla pari con le persone che sono in presenza. Buon pomeriggio, benvenuti alla sessione di apertura del percorso formativo ciclo atelier del progetto bici a pelo d'acqua. Partirei con i saluti istituzionali e pregherei sia in sala Teresa Armienti, assessora alle politiche per la sostenibilità ambientale e della mobilità del comune di Novara, di venire a fare un saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti i presenti e anche a chi è collegato online. Finalmente ci siamo e questo è l'inizio di quattro eventi tecnici formativi di lavoro che hanno visto questo progetto importantissimo a più facce. Siamo tutti impegnati in questo progetto importante con tanti partner, tanti operatori e che giunge quasi al termine. Insomma adesso dovremmo vedere concretizzate tutte le proposte che si sono sviluppate in questi due anni. Mi pare che il progetto sia forse del 2018-2019 adesso siamo in dirittura di arrivo. Anche noi quindi come comune di Novara abbiamo partecipato e la nostra operatività in questo progetto è mettere proprio qui nel castello le postazioni di ricarica per queste e-bike che sì sono elettriche ma saranno alimentate da pannelli solari. Quindi siamo proprio in un'ottica di sostenibilità ambientale e diciamo questo progetto volge al termine, al termine, addirittura di arrivo finalmente proprio in questo periodo in cui si parla tanto di transizione ecologica, sostenibilità ambientale. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti coloro che porteranno un contributo fattivo, progettuale e realizzato sul territorio, noi qua e ognuno nei propri territori, per costituire questa rete cicloturistica che sponsorizzi, che incentivi e che porti all'utilizzo sempre maggiore della bicicletta. Quindi è tanto più che queste biciclette siano sempre più sostenibili, siano elettriche e consentano di muoversi con la maggiore sostenibilità ambientale. Quindi grazie a tutti, buon lavoro a tutti, buon lavoro a noi. La ringrazio, un applauso. E passo la parola a Maria Rosa Fagnoni, presidente ATL della provincia di Novara. Buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato a questa prima giornata in presenza qui al Castello di Novara e anche a chi ci segue online. Davvero sono molto soddisfatta della grande partecipazione, del grande interesse di questo progetto che ha visto la sua luce a partecipare già dal 2019 e dentro il 2023 deve essere assolutamente concluso. È un progetto molto ambizioso, un progetto per il quale come ATL della provincia di Novara ma anche grazie a tutti i partner che sono con noi in questo percorso vedrà la luce appunto nel 2023. Siamo veramente molto felici di averlo vinto e la sfida appunto è proprio quella di far andare, percorrere questi territori bellissimi che sono il territorio del Novarese, del VCO e anche parte del Vallese come parte di Parne Svizzero, sempre più accattivante, sempre più così di grandi interesse. Ecco io in questo frangente, in questo primo momento volevo appunto ringraziare i partner che stanno lavorando in modo proficuo con noi che sono la Camera di Commercio, la Regione Piemonte, proprio questo diciamo questa operatività è proprio dovuta in capo e in capo proprio all'assessorato al turismo della Regione Piemonte, al Parco del Ticino e io li dico molto sinteticamente alla provincia di Novara, al distretto turistico dei Laghi e un ringraziamento anche molto particolare va alla FIAB, agli amici della Bici di Novara che ci sono sempre stati vicini e che ci hanno aiutato davvero tanto in questo percorso. Poi noi ci risentiamo fra poco e grazie a tutti e veramente della partecipazione e state sempre sincronizzati con questo progetto che ci porterà davvero delle grandi soddisfazioni in Bici a Pelo d'Acqua. Grazie. Bene, è la volta di Paolo Balzardi, Project Officer, segretariato congiunto programma operativo Interreg Italia-Svizzera 2014-2020. Benvenuto. Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i rappresentanti dell'amministrazione dei partner italiani e svizzeri di Bici Pelo Acqua e non solo, presenti qui anche online. Io porto i saluti dell'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Svizzera, l'autoressa Muci. Questo è un programma che in questi sette anni, che vanno dal 14 alle 20, hanno messo a disposizione circa 158 milioni di euro su un territorio di 700 chilometri di frontiera che coinvolge quattro amministrazioni italiane e tre cantoni svizzeri. Questi soldi sono stati allocati su cinque differenti tematiche, competitività, sociosanitario, trasporti, governance e poi l'asse sul quale è stato presentato Bici Pelo Acqua, ossia un asse di promozione del patrimonio culturale, turistico e ambientale dell'area trasfrontaliera. 95 sono stati i progetti ad oggi approvati, di cui 31 su questo asse. Non abbiamo ancora esaurito tutte le risorse, quindi stiamo chiudendo questo programma e quindi a brevissimo, quindi penso nel mese di giugno, apriremo un quarto bando, un bando di capitalizzazione rivolto a tutti i progetti in essere, è un bando a sportello, quindi chi prima presenta prima verrà valutato e consentirà ai progetti singoli di presentare delle iniziative di promozione di tutto quanto è stato fatto col progetto, oppure anche di attività complementare a quanto state già facendo sul progetto, oppure consentirà anche a gruppi di progetti di presentare insieme delle attività di capitalizzazione. Potrebbe anche essere il caso di Bici Pelo Acqua che insieme ad altri progetti che promuovono l'e-bike come TVA, Parchi Verbano Ticino, e-bike, Laghi e Monti Bike, Sastal, insomma ci sono tanti progetti sul nostro territorio che promuovono questa attività, potrebbe essere l'occasione di fare anche un'attività di capitalizzazione, di comunicazione tutti insieme. Vado sul futuro, abbiamo appena presentato all'Unione Europea la nuova proposta di programma per il settegno 21-27, quindi adesso siamo nel momento della negoziazione con la Commissione Europea, abbiamo più o meno tre mesi di tempo per portare a casa il programma e quindi è molto probabile che fine di quest'anno, inizio del prossimo anno potremo anche uscire con i nuovi bandi per la nuova programmazione, che vedrà anche nel futuro un asse che sosterrà progetti di promozione turistico-culturale-ambientale come nel caso di Bici Pelo Acqua. Quindi grazie dell'invito e buona giornata a tutti. Bene, è la volta di Giulia Marcon, dirigente settore promozione internazionale della Regione Piemonte. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, alle persone qui in presenza e alle persone collegate. Un particolare ringraziamento alla ATL Novara attraverso la sua Presidente Fagnoni che è il capofila di questo nostro progetto e anche un ringraziamento a Cristina Saviozzi che oggi rappresenta qui il capofila di parte svizzera di questo nostro progetto. È per me la prima volta che partecipo a questo incontro avendo assunto da poco tempo la responsabilità della promozione internazionale anche del turismo. Già mi occupavo della promozione internazionale delle imprese economiche, quindi ho il piacere di ritrovare qui persone con cui già abbiamo collaborato. Vorrei ricordare prima di tutti la Camera di Commercio del Piemonte Orientale. Uso questa dicitura perché Monterosa, Laghe, è diventato un nome un po' lungo. In particolare la dottoressa Cristina d'Ercole con cui abbiamo condiviso tante iniziative sono molto felice di poter da oggi condividere anche le iniziative per la parte turistica. Come veniva ricordato il tema del cicloturismo è un tema che ritorna in molti progetti, è sicuramente un elemento caratterizzante del nostro territorio di questa parte del Piemonte ma non solo e non a caso come ci ricordava Paolo Balzardi è anche un tema che ha caratterizzato in qualche modo un filo rosso che ha caratterizzato molte di queste attività. Credo che iniziative come quella di oggi di cui sono particolarmente lieta la Regione Piemonte attraverso il nostro settore sia l'organizzatore. Permettetemi un ringraziamento in casa ai miei collaboratori Anna Iannotta e Alessandro Galleri che hanno lavorato intensamente in queste settimane per poter essere qui oggi. Sappiamo che è un momento particolare perché per fortuna molte persone che operano in questo settore sono impegnate in questa settimana, in questa ripresa della stagione e ne siamo particolarmente felici ma come ricordavamo prima a margine di questa riunione con la Presidente Fagnoni stiamo pensando a una serie di iniziative quando dopo una stagione che auguriamo sia fruttuosa e di successo e di grandi soddisfazioni per tutti gli operatori del settore turistico e culturale sarà possibile nei mesi diciamo più di riposo ancora di più organizzare attività di questo genere che possano anche creare una sempre maggiore coesione tra i nostri territori e i territori della frontiera per come spesso si dice fare in modo che la frontiera sia non una divisione ma una cerniera qualcosa che unisce anziché qualcosa che divide. Per fortuna ho avuto l'occasione di occuparmi forse più di vent'anni di programmi di cooperazione trasfrontaliere e credo che davvero il momento sia venuto per poter fare un grande salto di qualità e avere dei progetti che non sono come dire l'occasione come nelle attività di formazione che spesso qui spesso ho partecipato organizzato rispetto ai progetti ho sempre sostenuto che è importante avere le idee e avere il progetto nel momento in cui ci sono i progetti si trovano anche gli strumenti di finanziamento ma è importante partire dalle idee dalla volontà di condividere e di fare delle cose insieme e di sicuro il cicloturista è interessato a conoscere sempre più i nostri territori indipendentemente dal fatto che vi passi o meno una frontiera quindi sta a noi creare sempre più questi percorsi virtuosi in Europa dove è sempre maggiore l'interesse dove molti la conoscono ma noi stessi ogni giorno muovendoci e camminando per le nostre città per le nostre campagne colline laghi montagne scopriamo sempre qualcosa di nuovo e quindi l'invito a noi tutti e a lavorare sempre più e a cercare di trarre tutti noi il massimo profitto da questa attività di formazione che con oggi comincia grazie grazie conclude la prima fase dei saluti istituzionali cristina saviozzi che è ricercatrice e coordinatrice del progetto per il capofila svizzero asce so buongiorno a tutti ringrazio soprattutto chi è presente qui oggi ma anche i partner svizzeri che sono collegati online io lavoro all'istituto del turismo e come ha detto spiegato diego sono una ricercatrice all'interno di questo progetto noi siamo capofile abbiamo svolto un lavoro di ricerca soprattutto attraverso la somministrazione di un questionario che è stato creato a cavallo tra il 2019 e il 2020 e all'interno di questo questionario appunto ha diciamo preso valore la parte formativa e quindi la necessità realmente di creare una connessione tra i due territori e oggi grazie ai ciclo atelier speriamo di dare diciamo maggiore imputo a questa collaborazione a questo diciamo lavoro insieme soprattutto sul versante svizzero invito particolarmente i nostri partner che sono la dot vali vali promozion rwo che ringrazio ovviamente per l'interesse mostrato al progetto e per per essersi attivati soprattutto nella diffusione di questo invito a partecipare ai ciclo atelier e ovviamente tutti i partner del del progetto lato lato italiano ecco lascio la parola grazie grazie il pomeriggio continua con un'introduzione del progetto bici pelo d'acqua che sarà tenuta dalla presidente maria rosa fagnoni e un'altra volta da cristina saviozzi terminata la parte di presentazione del progetto entreremo nel merito del ciclo atelier che è figlio diciamo del del progetto stesso quindi prego maria rosa fagnoni di tornare al tavolo delle relazioni e di introdurci al progetto bici pelo d'acqua eccoci di nuovo sarò molto molto breve sintetica però la genesi di questo progetto ve la voglio proprio raccontare perché è davvero molto interessante sotto il punto di vista così di progettazione di come si lavora in squadra e come si deve fare rete tutto parte da uno studio di fattibilità promosso dalla regione piemonte nel 2016 per la valorizzazione appunto degli itinerari cicloturistici della regione piemonte a cui come atl della provincia di novara abbiamo partecipato e siamo stati sufficientemente bravi per poterlo vincere per cui questo studio di fattibilità che era proprio in bici a pelo d'acqua è rimasto nel cassetto per qualche anno ma per brevissimo tempo e quando si è presentata l'occasione della dei progetti di partecipare al bando dei progetti interreg devo dire che abbiamo partecipato e abbiamo vinto questo progetto interreg molto felici perché davvero una progettazione ci vuole sempre bisogna sempre essere un po pronti ecco lavorare su progettazione anche nel lungo raggio per poi essere pronti per poter partecipare ad alcuni progetti ecco vedete qui dietro sta andando questo bellissimo anzi due bellissimi film filmati che abbiamo appunto girato per far sì che questi possano arricchire anche il nostro sito e per far sì che si possa conoscere di invitare i vari turisti o i vari persone che vogliono venire nel nostro territorio e innamorarsi di quello che abbiamo di bello nel nostro paesaggio ecco però ritorniamo alla descrizione di questo del nostro progetto alla genesi del nostro progetto ecco come agenzia turistica abbiamo dicevo infatti presentato il progetto in bici a pelo d'acqua sul programma di cooperazione trasfrontaliera interreg 5 a italia svizzera 2014 2020 ecco e che coinvolge la regione piemonte la regione lombardia la regione autonoma valle d'aosta la provincia autonoma di bolzano i cantoni grigioni ticino e vallese e a fronte di un totale di 59 progetti presentati sull'asse 2 finalizzato all'aumento dell'attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità specificità comuni 20 sono stati poi i progetti ammessi finanziati e noi ci siamo classificati terzi in bici a pelo d'acqua appunto si è classificato terzo il progetto che vede come capofila di parte italiana l'agenzia turistica locale della provincia di novara e di parte svizzera eso vale vali alta scuola di gestione e formazione del turismo ha come partner la regione piemonte la provincia di novara la camera di commercio monterosa laghi alto piemonte il comune il comune di novara lente di gestione delle aree protette del ticino e del lago maggiore il distretto turistico dei laghi e altri partner che fanno parte appunto della del vallese le azioni progettuali si sviluppano partendo dalle vallate alpine del vallese per spostarsi sulle colline vitivinicole novaresi territori da attraversare con lentezza in bicicletto a piedi per gustare dolcemente fino alla pianura risicola e al suo capoluogo che è novara un itinerario unico grande un grande itinerario di circa 220 chilometri che ha come tema dominante l'acqua l'acqua infatti si parte dal rodano e tutti le vallate che si dislocano che sono dislocate appunto attorno alla vallata del rodano poi vediamo il toce il fiume toce il ticino il sesia laghi come quelli di mergozze di orta e una rete fitta di canali rigui che portano la vita in risaia oltre a questo paesaggio splendido che in questi giorni in questi in questo mese appunto costella tutta la nostra bassa novarese ovvero le risaie allagate cioè il tema dominante era proprio l'acqua è l'acqua ecco e a guardare questo spettacolo dall'alto non si farebbe nemmeno caso la distinzione fra italia e svizzera ma sicuramente si noterebbero le strade che in bici a pelo d'acqua le vogliamo riunire e organizzare in un unico itinerario internazionale e per metterlo sempre a disposizione di un pubblico sempre più vasto che sceglie di viaggiare come turismo responsabile ovvero un turismo lento ovvero un turismo su due ruote che mai come in questo periodo post pandemico speriamo post pandemico e anche sembra più azzeccato la nostra sfida è quella di aumentare l'attrattività dell'intera aria con l'obiettivo di potenziare e valorizzare gli itinerari ciclabili esistenti riconosciute per la parte italiana dalla regione piemonte attraverso la realizzazione di interventi condivisi e fortemente innovativi per il territorio infatti in questo progetto vogliamo aggiornare la formazione delle figure turistiche degli operatori della ricettività e dei servizi legati al cicloturismo già disponibili nonché potenziare servizi aggiuntivi che andranno a corredare il grande itinerario cicloturistico come accennato i territori in cui si svolgerà il progetto sono il cantone vallese per parte svizzera la provincia del verbano così ossola attraverso il percorso della via del mare in entrata dalla svizzera vallese in discesa lungo il lago d'orta la provincia di novara la via del mare e collegamento tramite la via pedemontana che attraversa da est a ovest o da ovest ad est contemplando la regione lombardia e contemplando la provincia di vercelli e poi i percorsi del parco del ticino la rilevanza strategica del progetto è insita negli obiettivi che esso si pone ovvero migliorare la competitività e il potenziale economico delle aree coinvolte valorizzando nel modo integrato tutte le risorse esistenti per accrescere l'attrattività turistica dei territori e conseguire un aumento di presenze turistiche e quindi di portare sempre di più una ricaduta economica importante sul territorio questo itinerario ciclo turistico non è da intendersi come la creazione di piste ciclabili stiamo molto attenti su questo noi non creiamo piste ciclabili ma noi mettiamo in rete gli itinerari già esistenti e lo sviluppo di nuovi itinerari su strade comunali provinciali a basso traffico questo è proprio da specificare e da tenere ben presente le piste ciclabili non sarebbero veramente bastati forse tutti i fondi dei progetti interreg per creare una pista ciclabile così grande ecco ma noi vogliamo sfruttare quello che c'è perché anche quello che c'è è molto importante ed è veramente percorribile e realizzabile allora l'impegno predominante la creazione e la messa in posa di una cartellonistica specifica che parte dalla svizzera e attraversa i territori interessati per segnalare tutte le emergenze utili al ciclista quali monumenti siti di interesse naturalistico storico strutture di ospitalità prodotti tipici punti di servizio specifici per i ciclisti in particolare vi sarà la creazione di una struttura ricettiva una country house a villa picchetta e questo sarà uno degli impegni che dovrà assumersi anzi che si sta già assumendo il nostro partner che è il parco del ticino lago maggiore pensate che meraviglia poter avere una country house specifica per i turisti per i ciclisti all'interno di una di un luogo meraviglioso che una villa di campagna del seicento ecco questo è già una grande attrattività che può avere poi un'altra un'altra cosa importante sono poi la predisposizione di come diceva l'assessore armienti la predisposizione di una pensilina fotovoltaica energia solare per la ricarica delle bici elettriche che appunto un'attività realizzabile dal comune di novara che si inserisce appunto nelle azioni di potenziamento e di integrazione degli itinerari cicloturistici trasfrontalieri che verrà proprio posizionata qui all'interno del castello proprio a fianco della nostra del nostro ufficio turistico questa struttura avrà anche la grande potenzialità di essere sfruttata sette giorni su sette perché il nostro ufficio è aperto sette giorni su sette è possibile poi noleggiare le bici avere informazione e materiale turistico per tutti i fruitori del servizio sempre praticamente ecco tutto questo naturalmente sarà pubblicizzato e promosso tramite fiere educational e diversi canali comunicativi sociali e tradizionali che possono diffondere la conoscenza dell'intero itinerario poi ci sarà un sito internet lo stiamo già predisponendo e già anche in essere che però sarà potenziato ecco e l'altra cosa importante una cartografia specifica dell'intero itinerario in quattro lingue appunto tutto questo farà corredo a questo randonneur ciclistico internazionale io credo che questo sia un progetto ambizioso che noi dobbiamo concludere appunto nel 2023 speriamo davvero di riuscire a concludere nel migliore dei modi ma soprattutto speriamo che questo progetto sia di utilità per i territori per i territori che possano portare economia che possano portare conoscenza di tutto quello che noi abbiamo di di bello e di buono dalle nostre parti in questa parte del piemonte orientale e soprattutto che sia percorribile da tantissimi ciclisti perché a noi ciclisti piacciono davvero tanto una presentazione decisamente appassionata grazie ancora per altri video sono splendidi entriamo nel merito di un po di analisi di contesto direi no cristina allora come vi spiegavo prima noi nel 2018 2019 abbiamo iniziato un lavoro insieme al mio collega Lannin Boden che si scusa per oggi non è stato possibile per lui partecipare e abbiamo inviato un questionario a circa 82 destinazioni turistiche ovviamente era il periodo della pandemia non tutti hanno partecipato e risposto abbiamo avuto 32 risposte a questo questionario quindi per noi sono ovviamente dei dati da prendere in considerazione ringraziamo come ho detto prima ovviamente tutti i nostri i nostri partner da svizzeri la dot vali valise rwo e vali vali promozione che ci hanno aiutato ovviamente anche nella nella diffusione del questionario come spiegava prima anna e ovviamente maria rosa il gli obiettivi del nostro progetto sono quello di sviluppare promuovere il ciclo turismo collegare migliorare percorsi ciclabili già esistenti soprattutto per quanto riguarda la svizzera noi abbiamo la via del rodano il punto di contatto con il con il territorio italiano iselle abbiamo un collegamento intermodale che il treno e ovviamente la parte del bus molto importante perché sia il treno che il bus sono dotati di posti per le biciclette e questo quindi consente proprio al ciclo turista di esplorare tranquillamente entrambi i territori ovviamente aumentare la consapevolezza e l'opportunità appunto anche per gli operatori ciclo turistici da questo punto di vista all'interno di il nostro percorso come dicevo parte da iselle il territorio italiano arriva nella città di briga parte e tocca tutta la via del rodano quindi tutta la via che tocca la città di siersion e arriviamo sino al lago le man quindi siamo già nel lago di ginevra per capirci è un bellissimo panorama da vedere molto non ci sono tantissime pendenze è abbastanza facile soprattutto per per le famiglie ovviamente poi questo percorso che si che si svolge nella vallata è circondato da stazioni scistiche molto molto importanti che toccato da stazioni scistiche importanti vicini come cras montana o zermatt qua allora noi in questo progetto abbiamo messo l'accento sull'identificazione la valorizzazione anche lungo il percorso ciclo turistico delle attrattività culturali questo è molto e molto importante perché non è solo un percorso ciclo turistico quindi da fare esclusivamente in bicicletta ma è da proprio da esplorare i territori e visitare i luoghi culturali che si incontrano lungo il percorso allora come vi dicevo al questionario hanno risposto 24 destinazioni svizzere 14 destinazioni italiane abbiamo una percentuale di circa il 46 per cento e quasi tutte queste destinazioni ritengono che il ciclo turismo sia una strategia molto molto importante si sono poi valutate se entrambi i territori avevano in progetto lo sviluppo ancora e l'implementazione di queste attività anche attraverso appunto creazione di offerte e domande specifiche ok come potete vedere dalla schermata quasi il 91 per cento dei rispondenti appunto ha dato importanza al ciclo turismo come sviluppo per sviluppo futuro appunto prego allora allora intanto io proseguo dicendovi comunque che cosa può spingere una destinazione turistica sviluppare ulteriormente il ciclo turismo abbiamo ottenuto il 78 per cento virgola 6 di risposte che per favorire una forma di turismo sostenibile come diceva precedentemente maria rosa e soprattutto per ampliare la soggionalità e quindi fare un turismo di 4 4 stagioni cioè tutto l'anno e soprattutto per una delocalizzazione dei flussi turistici soprattutto in quelle destinazioni dove il turismo è maggiormente concentrato quali sono gli ostacoli per sviluppare appunto il ciclo turismo l'ostacolo maggiore è l'assenza di piste ciclabili la topografia territoriale soprattutto e la necessità di grandi investimenti mentre per quanto riguarda la formazione abbiamo notato che quasi sia sul territorio italiano che sul territorio svizzero era necessaria appunto la creazione di offerte formative speriamo che questo sia questa giornata appunto di inizio di atelier ciclo turistico sia il via di questi quattro incontri dove sia partner italiani che partner svizzeri possano realmente lavorare su questa tematica e trovare magari una chiave comune per creare un'offerta formativa e soprattutto un'offerta turistica insieme grazie grazie a cristina anche per questa introduzione di contesto mi spiace che tre slide non siamo riusciti a mandarle in onda chiedo per cortesia di verificare se è tutto a posto e se possiamo continuare con la relazione va bene io intanto vi introduco il ciclo atelier mentre aspettiamo che riprenda vita la presentazione alle mie spalle e lo faccio in compagnia della collega linda tonnolli prego linda vieni vieni pure al tavolo ci occupiamo entrambe di aspetti di partecipazione vedo che si muove qui forse ci siamo ho chiesto a linda di contribuire alla sessione di questo pomeriggio perché entreremo nel merito della filosofia con cui abbiamo interpretato il ciclo atelier e a seguito poi della filosofia ci sarà un'attività di ascolto siamo in procinto di lanciare oltre alla sessione plenaria di questo pomeriggio anche un percorso formativo come sapete che si articolerà in tre sessioni online nei prossimi lunedì del mese di maggio e queste sessioni che io chiamo formative per utilizzare una parola insomma che è nota e chiara in realtà vogliono essere delle sessioni di mutuo apprendimento di confronto tra pari siete in una sala speciale che non ha un dietro le quinte in realtà siamo in contemporanea in pratea e nel dietro le quinte noi vi abbiamo invitato al ciclo atelier perché siamo piuttosto consapevoli che i mastri siete voi cioè l'esperienza di come si fa cicloturismo e cosa c'è dietro ad una sfida come quella che ci hanno raccontato Cristina e Maria Rosa sono mi sono credo note ed è sempre diciamo sfidante riuscire a fare squadra nei contesti come i vostri si dice fare rete tra operatori io ho seguito le ultime conferenze del settore insomma fare rete tra operatori sembra essere come dire ormai un obiettivo utopico difficilmente raggiungibile però credo che in questi queste trasformazioni importanti quello che sta succedendo dal post pandemia a quello che abbiamo davanti a noi insomma credo che siano sfide che mal si fanno al one man show o one man one project e abbiano bisogno specie oggi di questi tempi di una capacità di mettersi insieme fare rete dite voi io sono un pallavolista nella pallavolo la rete è un oggetto passivo in realtà non è che ci facciamo su tante filosofie sulla rete noi teniamo di più al concetto di squadra fare squadra credo che utilizziate il fare rete come sinonimo del fare squadra il fare squadra è qualcosa di ancora più sfidante rispetto al fare rete perché la squadra non è diciamo l'amalgama di fenomeni ma è la capacità di un'organizzazione di sopperire alle fragilità attraverso i talenti in modo che si possa crescere tutti quando mi hanno chiesto di interpretare il ciclo atelier mi è apparso diciamo alla memoria questa immagine è strana è fatta di cicli ciclo vedete che c'è un un garbuglio all'inizio potrebbe essere un filo un filo con ago atelier che a un certo punto questo ago trova la sua strada si dipana si scioglie questa rappresentazione per chi diciamo si è avvicinato alle complessità del fare rete dello stare insieme ha a che fare con una filosofia emergente che si chiama design thinking vuol dire riflettere molto bene su quello che si vuol fare prima di farlo e pensare a quello che è il valore per i fruitori di quello che si vuol fare prima di farlo noi siamo pieni di progetti di ottimo design abbiamo degli oggetti di ottimo design poi arrivano company come la apple che hanno come domanda del brief come vogliamo che si sentano i nostri utenti e allora il design cambia radicalmente è più un pensiero legato alla finalità e noi siamo interessati a capire da voi cosa vi aspettate da questo ciclo atelier prima di pensarlo diciamo pre-ascolto ex ante si dice prima che le cose accadano ho appena terminato di leggere un saggio dove si parla insomma della sfida oggi di fare rete e di trovare anche un modo soprattutto per fare rete perché non so quanti di voi alla domanda che modo c'è di poter fare rete hanno una risposta pronta in mano si sa che è una modalità che fa diciamo che dà più opportunità oggi che il mondo è diciamo più sofisticato di quello che era un tempo però la ricetta del fare rete è ancora da scrivere non so se siete d'accordo su questo insomma o se qualcuno di voi ha già diciamo una ricetta però sembra essere diciamo un elemento che passa da una modalità ci sono company che si danno obiettivi ci sono company che riescono a raggiungere gli obiettivi e company che non riescono a raggiungere gli obiettivi gli stessi obiettivi cos'è che le distingue? chi ci ha messo un po' diciamo il becco in questi aspetti dice che è l'approccio è il modo con cui raggiungono gli obiettivi che fa la differenza tra quelle che vincono e li raggiungono e quelle che invece fanno fatica cosa voglio dire? vi faccio un esempio insomma forse noto, famoso la nostra Samantha Cristoforetti è tornata sulla stazione internazionale è tornata per la prima volta attraverso una navetta privata della SpaceX erano 19 anni che la NASA non riusciva a intraprendere un progetto significativo per riportare l'uomo nello spazio e sono arrivati i privati a fare la differenza oggi la SpaceX è a tutti gli effetti un fornitore della NASA dove sta la differenza? come mai la NASA non ce l'ha fatta e sono arrivati i privati a farcela? nel modo ancora una volta è una questione di modo la NASA ha utilizzato negli ultimi 50 anni come approccio allo spazio il teorizzare tutto prima di costruire i progetti le navette che portassero le persone in orbita la SpaceX al contrario prototipa lancia vettori alcuni sono scoppiati per fortuna senza passeggeri a bordo imparano dagli errori ed è la maniera con cui sono riusciti a realizzare un progetto di missione completamente riusabile che abbatte significativamente i costi non sarebbero riusciti a sviluppare un percorso così innovativo in termini di andare in una nuova azione se avessero provato a costruirlo sulla carta prima di implementarlo hanno utilizzato approcci completamente nuovi che prevedono l'imparare dagli errori che prevedono anche fare per imparare imporsi di fare delle cose per imparare è una modalità chiaramente che sta negli innovatori adesso non sta a me chiaramente lodare il personaggio ma è sicuramente un personaggio che cose nuove le sta tirando fuori le sta tirando fuori rompendo gli schemi in tutti i settori in cui diciamo si introduce e credo che sia così anche per il destination management credo che sia così anche nel vostro settore insomma che sia arrivato il tempo di provare a mettere a punto modi nuovi di fare rete forse fare squadra mi piacerebbe di più insomma perché è una cosa più calda è una questione più diciamo di avere cura gli uni degli altri piuttosto che semplicemente del catalogo di quello che offro io che offri tu e lo mettiamo in rete in modo che siano vicini e questo è l'obiettivo del ciclo tellier lo scopo del ciclo tellier è questo io sono qui non so neppure bene per quale ragione nasco ingegnere informatico io ho fatto gli studi da ingegnere informatico e stavo per completare gli studi accademici l'ultimo esame il docente dice l'86% dei progetti che informatizzano il lavoro delle organizzazioni fallisce caspita sto mettendo le mani su di una rogna che grossa perché uno si prepara a lavorare poi scopre che in realtà davanti una prospettiva dove si fa più fatica ad essere effettivamente innovatori che altro e ho voluto capire come mai vi racconto questo breve aneddoto per arrivare sul modo il modo che è un po' diciamo il lancio di quello che faremo tra dieci minuti ho capito perché perché si fa così fatica ad innovare anche nel campo delle tecnologie che sono come dire alla portata sono ormai l'humus dell'innovazione dove si parla di innovazione c'è sempre un condimento tecnologico in qualche misura insomma sono entrate a far parte delle nuove pratiche di lavoro e la risposta è molto semplice perché chi le fa le tecnologie non coincide con chi le usa ora ovviamente ve la dico così diciamo l'acqua di rose chi fa le tecnologie spesso non coincide con chi le usa ci sono sotto aspetti filosofici abbastanza profondi nel senso che parliamo di tecnologie o parliamo di un miglior contesto di vita di lavoro per chi le usa quale delle due su quale delle due il design thinking direbbe siamo sul piano del migliorare effettivamente la vita delle persone c'è anche chi dice la tecnologia non esiste esiste solo quando non funziona se no dovrebbe essere altro e ci sono delle correnti di pensiero delle comunità diciamo di riferimento in cui questo pensiero maturo al fatto che l'innovazione anche quella portata dalla tecnologia abbia a che fare con il modo con cui la si fa sta in Scandinavia la Scandinavia ha sposato la partecipazione nel fare innovazione la figura del consulente non è neppure più diciamo così interessante loro parlano di coach parlano di facilitatori nel senso che non c'è nessuno che ha l'ambizione di consigliare quali potrebbero essere le soluzioni specie se sono soluzioni di un mondo complesso dove il consulente non è mai entrato nella sua vita per entrato intendo dieci anni intendo diecimila ore intendo quel percorso che ti trasforma da garzone a mastro appunto conoscenza età città non è investigabile cosa ne capisce uno se guarda il vostro lavoro quotidiano figuriamoci quanto può impattare se costruisce un accrocchio tecnologico che possa migliorarvi la vita a meno che i progettisti non siate voi e questa è diciamo la chiave di volta ed è la ragione per cui ci sono alcuni vostri colleghi collegati ci siete voi qua e io e Linda abbiamo un compito da proporvi tra qualche istante che vi permetterà insomma di raccontare forse le ragioni che vi hanno portato qui le aspettative che avete questo modo io l'ho chiamato modo fin qua non ho usato parole diciamo più precise metodo questo modo non è un metodo la partecipazione non è un metodo non c'è un ricettario che dica cosa si fa prima e cosa si fa dopo non trovate un saggio che vi racconti come si fa a fare rete nel turismo non esiste è un approccio è un approccio ed è un approccio che si basa su due principi il primo principio è progettare facendo le cose torniamo all'esempio della SpaceX si dà diciamo l'errore come un'importante fonte di apprendimento e non c'è la formazione non c'è nessuno che ha la pretesa di dare la forma a chi non ce l'ha c'è piuttosto un confronto tra pari quello che si chiama mutuo apprendimento imparare mettendo assieme quelle che sono le esperienze che si sono fatte nella vita perché possano essere diciamo a vantaggio di tutti questa cosa gli scandinavi la chiamano participatori design sul vocabolario nostro c'è una parola ancora più bella che la sintetizza che è la comunicazione la comunicazione è intesa come la comune azione però cioè andando a pescare quello che è il significato originario antico della parola comunicazione che con l'era con l'avvento dei media è diventato tanto altro noi oggi pensiamo che una bella brochure sia comunicazione pensiamo che un bel filmato sia comunicazione chi l'ha voluto chi l'ha chiesto l'avranno capito cosa si saranno portati a casa tutte questioni che non interessano alle agenzie che fanno comunicazione ma la comunicazione non è stata non è stata sempre così la comunicazione un tempo era decidere cosa conviene fare insieme per vincere e qualcuno l'ha capito molto bene Amazon l'ha capito molto bene la Apple l'ha capito molto bene insomma le company innovative hanno capito molto bene che l'intelligenza emotiva dei partecipanti è un fattore determinante per decidere una cosa qualsiasi essa sia ma anche farla perché altrimenti ci riempiamo i cassetti di progetti e poi questi progetti non trovano diciamo intelligenza emotiva per essere portati avanti e così vorremmo che fosse anche per il nostro ciclo atelier perché abbiamo tre relatori che sono tre belle persone tre persone speciali con cui noi abbiamo lavorato in passato e adesso ve li presento che faranno gli interventi online il 18 il 23 il 30 di maggio e sono dei coach non sono dei formatori cioè sono disposti a raccontarvi quello che hanno imparato e anche a farlo cucendo il loro intervento su quelle che sono le vostre possibili aspettative che tra un istante insomma cercheremo di condividere abbiamo chiesto abbiamo ottenuto la disponibilità di Alice Marmorini che è una giovane coach marketing nel cicloturismo è una persona speciale perché è una ciclista e una turista e lei ha diciamo messo a punto una modalità originale su come si ascolta la domanda dice le divisioni sociodemografiche famiglia con bambini insomma oggi è veramente un modo è un occhiale troppo stretto per guardarle la realtà perché la stessa famiglia con bambini cioè due famiglie con bambini diverse potrebbero avere esigenze completamente diverse nella loro vacanza e quindi lei è pronta a parlarci del fatto che i cicloturisti non sono tutti uguali e di come ci si possa attrezzare per far mecciare nella maniera più utile possibile l'offerta con la domanda la propria offerta peculiare con la domanda Alberto Conte è un manager milanese che si è innamorato del Piemonte è il referente tecnico della via francigena e qui in Piemonte ha fondato la scuola del movimento lento nell'omonima casa la casa del movimento lento lui è uno specialista di progettazione di esperienze cicloturistiche che coinvolgano gli operatori che sono limitrofi ai percorsi che sono attraversati dai turisti esperienze diceva prima la presidente da che prospettiva la vogliamo prendere l'esperienza dall'insieme delle cose che gli mettiamo a disposizione o andando a prendere dal loro cuore come hanno vissuto effettivamente l'esperienza Alberto Conte è molto abile in questo e tutti i progetti che sta seguendo sono progetti che sfruttano i percorsi per aggregare gli operatori e per fare in modo che il percorso sia una modalità possibile di portare fuori tutto quello che c'è nei vintorni del percorso l'ultimo d'Arco Cazin è uno specialista di design thinking quello che fa lo dice l'immagine stessa insomma lui è un biker è il fondatore di Allegra Turismus che è una company che fa consulenza su come si progettano esperienze bike tracking sostenibili sull'arco alpino questi sono diciamo tre specialisti con tre temi possibili io non gli ho chiesto un titolo gli ho chiesto se potevano darmi un tema e questa settimana tra giovedì e venerdì io porterò a loro il risultato di questo nostro ciclo atelier perché sono disponibili appunto a declinare questi temi molto larghi in un qualche cosa che sia massimamente utile per voi questo è diciamo il concetto io adesso non vi chiedo che cosa è massimamente utile per voi perché sarebbe come dire una domanda troppo sofisticata però vorrei provare prima del coffee break o addirittura con il coffee break integrato avrete una volta che vi ho presentato diciamo che cosa con Linda ci piacerebbe ascoltare dopo il coffee break da voi prima del coffee break abbiamo preparato un piccolo compito i vostri colleghi che sono online hanno ricevuto questo schema che adesso vi illustro e prego anche a loro di fare questo compito e di prendersi insomma la prossima mezz'ora per riflettere su questo e questo compito contiene quattro domande quattro domande attorno a quei tre temi macro temi che vi ho appena introdotto Alice Alberto ed Arco due domande sono domande personali e più o meno recitano così su quali aspetti del regno diciamo del cicloturismo ti senti personalmente e imprenditorialmente forte cosa portate in dote al ciclotelier questo è diciamo è la prima domanda voi siete qui per sicuramente una curiosità di capire che cos'è il ciclotelier io vi ribalto un po' la prospettiva so che ognuno di voi ha avuto a che fare e mi piacerebbe capire cosa portate in dote cioè quali sono diciamo gli aspetti su cui vi sentite già molto forti in termini di pensare progettare controllare sviluppare facilitare iniziative di cicloturismo la seconda domanda invece è legata a cosa vi piacerebbe migliorare terminati i tre incontri con Alice con Alberto e con Darco cosa vorreste assolutamente portarvi via a fine maggio come vorreste congedarvi da questo ciclotelier quindi un po' le vostre aspettative mi aspetto che si parli di questo mi piacerebbe che venissero affrontati questi temi mi sento particolarmente debole su questo vorrei capire qualcosa di più su questo aspetto le due domande hanno a che fare con una dimensione ripeto individuale e poi lascio scegliere a voi se individuale significa a voi e voi il vostro team la vostra squadra però sostanzialmente è il contesto che vi è molto vicino le altre due invece aprono un po' la dimensione del vostro territorio della vostra comunità in senso più largo più ampio quali potenzialità riconosci nel territorio e nella comunità a cui appartieni è pronto non è pronto e se lo ritenete pronto in che termini lo ritenete pronto cioè quali sono le potenzialità che voi vedete che possono essere spese anche potenzialità che non sono ancora entrate nella luce delle varie iniziative ma che riterreste assolutamente meritevoli di essere menzionate potenzialità non sfruttate diciamo e invece al contrario dove secondo voi ci sono ancora delle fragilità su cui lavorare cioè su cosa sentite il bisogno di mettere ancora diciamo l'accento sì tutto bene ma se non arriviamo ad affrontare anche questo poi le cose sono difficili no? Io ho messo abbiamo messo tre spazietti per ogni domanda ma oro che cola se mettete una reazione diciamo a ciascuna di queste di queste quattro domande due individuali due un po' più sulla dimensione diciamo del territorio di appartenenza ok abbiamo la versione cartacea di questa cosa che adesso ve la ve la consegniamo e avete diciamo una mezz'ora di tempo tra il coffee break qualche passeggiata per poi ritornare qui e provare a raccontarci un po' quello che è venuto fuori niente di complicato chiederò se qualcuno vuole dare un contributo se qualcuno vuole mettere un pensiero a qualsiasi di queste domande siete liberi di scegliere quella che vi piace di più quella che vi sembra più fattibile ok quello che vi chiedo di fare è mettete le cose veramente importanti anche fosse una sola mettete le cose veramente importanti su questo perché potrebbero essere diciamo utili ai tre coach per darvi una mano per dirvi come farebbero loro o per dirvi come hanno fatto loro in altre occasioni ci sono domande è chiaro è un modo per partecipare al ciclo atelier ok altrimenti diventava un sapere saper fare gli obiettivi i contenuti che ci sono ok assolutamente ci sono ma che forse non sono proprio quelli che vi interessano bene allora se non ci sono domande io vi direi coffee break prendetevi una pausa e ci troviamo qua esattamente tra 30 minuti e proviamo a ascoltare qualche reazione vi prego non scappate è previsto un minimo di di condivisione sì 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 potete andare dovevi fare c'è anche il pianoforte allora siamo ufficialmente nel coffee break un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. 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 e come. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. per questo territorio. e per grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.